Il pensiero del giorno Il studio Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano. Il desiderio è come il seme che lotta nel terreno, ha scritto Emily Dickinson. Non c'è desiderare senza questo movimento di uscita da sé, di morte e rinascita. Non è fuga, è ciò che ci apre, ci attira verso gli altri, l'alto, l'oltre, e insieme ci radica alla vita, perché il desiderio fa fiorire ogni cosa, ha scritto Proust. Mai rinunciare ai desideri, scrive Rilke, e aggiunge, io credo che non ci siano adempimenti, ma desideri che durano a lungo, perché il desiderio è un vuoto che non può essere saturato. Ci spinge ad alzare lo sguardo verso le stelle, pur sapendo che non potremo mai afferrarle. Come scrive Pessoa, lontano va una stella, e vicino va il non averla. Ogni nome del desiderio è in un certo senso un inganno, anche quando è tu. Certo non fu mai così intenso e vago il desiderio, scrive Rilke. Se ci raccontano che qualcosa o qualcuno può saturare questa mancanza, è una trappola, principio di ripetizione e delusione che ci rende cinici, ingombri di cose, privi di legami che durano e alla fine spenti. Deve chiamarsi tristezza, questo non so cosa sia, che mi inquieta senza sorpresa, nostalgia che non desidera, scrive ancora Pessoa. E Ungaretti, non ne posso più di stare murato nel desiderio senza amore. Il desiderio chiede piuttosto di fare spazio, sgombrarsi dalla zavorra di sé per potersi protendere con leggerezza. Meglio coniugarlo all'infinito, desiderare, movimento, continuo oltrepassare, pieno di sorprese. Per Goethe, la sorte appaga i nostri desideri, ma a modo suo, per poterci dare qualcosa al di là dei desideri stessi. Un'anqueta fiducia, che ci sostiene nel percorrere con generosa grazia, anche in mezzo alle fatiche, la strada della vita. Lo sa dire con parole belle Antonia Pozzi. Desiderio di cose leggere, nel cuore che pesa come pietra dentro una barca, ma giungerà una sera a queste rive l'anima liberata. Senza piegare i giunchi, senza muovere l'acqua o l'aria, salperà con le case dell'isola lontana per un'alta scogliera di stelle. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast dal sito pensierodelgiorno.rai.it La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast dal sito pensiero. La trasmissione si può riascoltare. Grazie. Grazie.